Sono Tommaso Tortarolo, gestisco l'hotessa Michele di Celle Ligure, sono un giovane imprenditore, credo ancora in questa regione e credo nei progetti giovani che sta promuovendo la Confcommercio di Savona, tra cui Savona Pilla. Ho partecipato alla terza fase del progetto che prevedeva lo stage da parte di studenti di vari istituti della provincia e a me è stato assegnato un ragazzo del quarto anno dell'istituto tecnico professionale Mazzini e l'ho inserito nel ruolo di receptionist. Allora, sicuramente in un'impresa giovane come la mia serve una figura estremamente dinamica, multitasking, ovvero che sappia agire in un ambiente estremamente dinamico, quindi si deve adattare anche considerando i tempi di estrema crisi, si deve adattare anche a ruoli non specifici. sicuramente il sapere le lingue è un elemento fondamentale e sempre più richiesto. Un altro elemento da non sottovalutare è l'utilizzo del computer, dei gestionali e dei sistemi operativi Windows, Excel e Office. Sicuramente nelle scuole bisognerebbe cominciare a introdurre corsi di web marketing specializzanti per queste nuove industrie anche nel settore turistico. I ragazzi sicuramente sono una linfa vitale per le nuove imprese, tra cui la mia, infatti creano nuovi stimoli anche attraverso esperienze personali loro. La ConfCommercio in questo periodo si sta avvicinando molto ai giovani, infatti prevedendo corsi per start-up, per aprire nuove start-up finanziamenti agevolati tramite Fidi Contour. Quindi è un sindacato di categoria aperto ai giovani, perché ha capito che questo mondo necessita di nuove forze.